Ciao, sono Simone e in questo video ti farò vedere come disattivare il microfono con Windows 10. Se temi che qualcuno possa ascoltare le tue conversazioni di nascosto tramite il microfono integrato nel tuo laptop o il microfono collegato al tuo pc fisso, non temere, ti aiuto io. Purtroppo non è raro che hacker o software maligni installati nel tuo computer a tua insaputa possano intercettare le tue conversazioni ed usarle poi chissà quale scopo. Per ovviare a questo problema e venirci incontro, Microsoft ha semplificato la procedura di disattivazione del microfono. Vediamo dunque come fare per disattivare il microfono del tuo computer. Come prima cosa, recati sul desktop del tuo computer e clicca in basso a sinistra sull'icona forma di logo di Windows. Qui individua l'icona forma di ingranaggio, cioè le impostazioni, e cliccaci sopra. Nella schermata che si è aperta, ovvero quella delle impostazioni, clicca su Privacy, icona forma di lucchetto. Ora, nella colonna di sinistra, nella sezione Autorizzazioni Hub, clicca su Microfono. Le impostazioni di privacy del microfono verranno mostrate nella colonna di destra. Qui, nella parte destra dello schermo, clicca su Modifica. Comparirà un pop-up. Ora non devi fare altro che cliccare sull'interruttore e far comparire la dicitura disattivato. Bene, ti ho fatto vedere come disattivare il microfono con Windows 10. Spero di esserti stato di aiuto. Fammi sapere nei commenti. Iscriviti e non dimenticarti di visitare il mio blog www.comefareper.online. Un saluto da Simone.